Beni per 3 milioni di euro sequestrati al Consorzio Siciliano di Riabilitazione, l'ente che gestisce diversi centri in Sicilia nell'assistenza ai disabili. Indagati i vertici, il presidente del Consiglio d'Amministrazione, Sergio Lottrovato, 52 anni, e il padre, Francesco Di, 87, il vero artefice e gestore del gruppo nei decenni in cui la rete delle attività collegata alla business dell'assistenza ai disabili è cresciuta. Il sequestro, disposto dalla Tribunale di Catania in via preventiva per 3 milioni di euro, sono equivalenti all'evasione fiscale contestata. Il reato ipotizzato è di dichiarazione infedele, in quanto, secondo la procura di Catania, il CSR-IAS non avrebbe le caratteristiche di un ente senza fini di lucro, ma al contrario sarebbe a tutti gli effetti un'impresa commerciale che, quindi, sugli utili prodotti avrebbe dovuto versare le imposte. Invece, contesta la procura etnea, gli utili reali effettivamente prodotti venivano fatti confluire in una fondazione riconducibile alla famiglia Lottrovato e lì avrebbero seguito la via di investimenti che nulla hanno a che fare con l'oggetto sociale dell'ente. In particolare, rilevano gli inquirenti, a modi che il CSR avrebbe gestito una struttura ricettiva, il Kiki Village. Altre somme sono state destinate agli impianti fotovoltaici. Anche in altri casi non sarebbero stati rispettati i vincoli di destinazione compatibili con la natura no profit dell'ente. L'investigazione del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania trae origine dall'esecuzione di una verifica fiscale condotta dai finanzieri che ha portato nell'ottobre 2018 alla contestazione amministrativa di redditi non dichiarati per 10,7 milioni di euro, nonché di oneri non deducibili per 2,9 milioni di euro. Il CSR IAS, costituito nel 1980 con sede amministrativa via grande a Catania, in Sicilia gestisce 19 centri tra le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Trapani e Caltanissetta. È una realtà consolidata che assiste una media di 5.000 disabili l'anno e può contare su circa 800 collaboratori, 600 dipendenti, oltre 200 collaboratori, beni strumentali per 10 milioni di euro. Nella provincia eblea sono quattro le sedi, a Ragusa Città, Modica, Pozzallo e Comiso, dove è stata inaugurata di recente una nuova sede.